ariete che sia amore o lavoro pondera valuta e tuffati la luna è dalla tua e questo vuole dire grande ottimismo e positività toro vivi intensamente nel bene e nel male ogni cosa ti accadrà oggi venere che ti sussurra parole d'amore e di grande sensualità gemelli sul lavoro gli incontri casuali di oggi forse saranno presto opportunità importanti amore o amicizia che sia sarà una serata che non dimenticherai cancro vuoi raggiungere un obiettivo professionale o riuscire finalmente a catturare l'attenzione di un superiore ci riuscirai e ci riuscirai anche in amore leone grande passione attrazione grazie a venere e soprattutto grazie a marte dominante e passionale e istintivo come non mai vergine amore in primis famiglia amicizia affetti tutto questo animerà e arricchirà la giornata la luna splende serena e chiara su di te bilancia al lavoro non arrivano le risposte che speravi anche questa settimana ti tocca aspettare marte ti vuole combattivo scorpione cupido è dietro l'angolo e forse ti verrà presentata per caso una persona che si rivelerà importante per il cuore e sorprendentemente anche per il lavoro sagittario va bene che ti senti indistruttibile oggi ma tante cose vanno soppesate senza farsi prendere da facili entusiasmi lunedì carico che più carico non si può capricorno metti da parte il tuo equilibrio e il tuo essere un modello di integrità oggi un po di sana follia sarà la tua carta più bella e vincente acquario non si può essere perfetti e nonostante le tue attenzioni oggi rischierai di deludere qualcuno capita come oggi che tu non veda al di là del tuo naso pesci oggi hai voglia di fare shopping giove ti invita a ponderare ogni spesa e magari a rimandarla ma tu non lo ascolterai